Condivido tutto quello che ha detto l'amico Calò su questo ospedale. Fra l'altro se voi lo guardate è mascherato come siamo mascherati noi cittadini per non far vedere quella che è la realtà interna di questo ospedale. E la colpa di questa situazione è tutta politica, perché noi diamo la colpa spesso all'ASLE, parliamo del direttore generale, ma non è vero, perché l'ASLE è la mano armata della politica, altrimenti non potrebbe senza il consenso della politica prendere certe iniziative o avere certi atteggiamenti. La sindaca prima non ha voluto rispondere per circa 15 giorni sul contenuto dell'incontro avuto simultaneamente con la Saccardi, assessore, e Morello, direttore generale dell'ASLE. Poi quando ha parlato ha detto una bugia. Voi mi dovete spiegare come è possibile salvare un ospedale con la sola forza dei sindacati e dei cittadini. I sindaci sono sempre stati contro l'ospedale e l'attuale presidente Rossi, indagato purtroppo per lui, prima da assessore per dieci anni e poi per dieci anni da presidente della regione, ha distrutto il contenuto di questo ospedale. Ma noi, come ha detto giustamente Calò, continueremo, sarò sostituita, però i cittadini continueranno a difendere l'ospedale.